Non si sente, Gino. Eccoci qua, siamo qui con Niki Vendola, leader di Sinistra Ecologia e Libertà, nonché governatore della Puglia, che come sapete tutti è candidato in Parlamento alle prossime elezioni e ha un patto con un'alleanza politico-elettorale con il PD di Pierluigi Berzani, che i sondaggi danno in testa a questa alleanza e che quindi dovrebbe essere la vincitrice delle prossime elezioni, dovrebbe perché negli ultimi settimane questi sondaggi un po' scendono, mentre quelli che riguardano il PDL di Berlusconi salgano, ci sono ancora tra i quattro e i sette punti di differenza, però insomma c'è la forbice un pochino, si stringe. Ora però, per stare alla strettissima attualità politica, ieri il leader del PD e nonché candidato premier del centrosinistra Pierluigi Berzani ha fatto un'ennesima, perché non è la prima, però è forse la più forte apertura nei confronti di Mario Monti e della sua nuova formazione politica, dicendo che dopo le elezioni possiamo collaborare. Vendola ieri sera, ma anche stamattina, ha chiuso la porta, come era ovvio, dicendo che io e Monti siamo incompatibili, Monti non è uno del centrosinistra, noi collaboriamo per portare il centrosinistra al governo. Benissimo. Dopodiché però io non ho capito perché tu e Berzani, lei e Berzani non vi parlate, perché evidentemente ognuno va un po' per conto suo, Berzani continua a fare apertura a Monti, sapendo benissimo che Vendola non vuole aprire a Monti, come si fa? Date un messaggio di confusione agli elettori, a me pare. Ma io credo che se riusciamo a fotografare il fatto che ci sono due terreni su cui bisogna far camminare la prossima legislatura. Il terreno proprio del governo e quindi di un'agenda programmatica in grado di affrontare, ripeto, il dramma di un'Italia in declino, di affrontare con coraggio quella svolta di politica economica e sociale che possa rimettere al centro il lavoro, che possa tornare a delineare la giustizia sociale come un orizzonte da perseguire, ma questo è un terreno. Ma poi c'è anche tutta la materia legata alla riforma dell'architettura dei poteri dello Stato. Noi siamo stati immersi per anni nella discussione sul federalismo, a partire anche dalla riforma del titolo V della Costituzione. A che punto siamo? Dove è finito tutto questo? Il federalismo è scomparso a un certo punto e è comparsa la voglia addirittura di cancellare il regionalismo. Che dobbiamo fare? Come riprendiamo di petto questa questione? Si è fatta questa abortita riforma delle province, ma come si riarticolano i poteri territoriali? La legge elettorale, posso continuare a lungo? Su questo terreno è inevitabile, su questo terreno, nell'evocazione degli oggetti che rappresentano tanti dossier aperti e non chiusi, su questo terreno è assolutamente auspicabile e io dico necessaria la collaborazione, non solo il confronto, ma la ricerca di punti di compromesso con la lista Monti, con i centristi che sono attorno a lui. Sull'agenda di governo no, perché rischiamo veramente di uscire fuori dall'Europa. In Europa c'è un polo conservatore e un polo progressista che si contendono nelle campagne elettorali la vittoria per poter dare il segno a una stagione. Noi abbiamo avuto un quindicennio grossomodo dominato, persino negli anni in cui governava il centrosinistra, dall'egemonia culturale della destra, del berlusconismo. Io penso che il centrosinistra abbia diritto a una vittoria piena e credo che abbia il dovere di governare senza ipoteche che provengono da quello che io definisco il partito delle élite. Benissimo. Dopodiché, visti anche gli ultimi sondaggi, che non sono chiaramente il risponso delle urne, però su quello ci dobbiamo basare, nel caso, al momento probabile, che il centrosinistra non avesse la maggioranza in Senato, quindi non avesse i numeri per governare, per creare un governo da solo, da qui secondo me parte l'apertura di Bersani a monte, l'ennesima apertura, perché evidentemente è molto preoccupato di non riuscire ad avere… che cosa farebbe vendola e la sua sella? Serietà vuole che la coalizione che esce con più voti, con più numeri dalle urne, si presenta di fronte alle camere e dice che questo è il programma necessario per dare respiro, ossigeno all'Italia e si verifica in un Parlamento di cui oggi noi non sappiamo nulla, come posso dire un'incognita assoluta quali saranno le forze del Parlamento, non è possibile immaginare che i programmi siano carta provvisoria soltanto per i grulli elettori, i programmi sono il confronto di idee, di modelli di società, sono necessari, io credo che abbiamo il dovere di rispettare i nostri elettori. Del resto Bersani aggiunge che sul mercato del lavoro e sui diritti civili ci sono distanze siderali con Monti, allora voglio capire se sulle due questioni fondamentali su cui ci giocheremo la prossima legislatura, come è giusto che sia, come è normale che sia, perché Monti è un classico conservatore europeo, se c'è una distanza così forte, ma come si può pensare di governare insieme? Ma non glielo ha chiesto Bersani, non glielo chiede, perché lui fa queste aperture senza non vi consultate mai su come andare avanti nella campagna elettorale, perché è un po' strano, no? E lui dice una cosa e lei dice il contrario eppure siete alleati. Io se fossi stato nei panni di Bersani, lo dico veramente, mi permetto questa confidenza solo perché ho molto affetto e molta stima nei suoi confronti, mi sarei dimesso da segretario del Partito Democratico per rimarcare il fatto che lui è il capo di una coalizione, è il candidato premier e quindi è di più che non capo di un partito e lui dovrebbe catalizzare l'attenzione su questo fatto che è il prodotto di un fenomeno democratico chiamato primario, di 3 milioni di elettori che hanno fondato un nuovo centro-sinistra, che hanno dato a Bersani la leadership, ecco io penso che Bersani non ha il potere di mutilare il centro-sinistra di questa sua genesi, le primarie, il programma Italia Benecomune, l'alleanza con me e con Sinistra Ecologia e Libertà. Siamo parte integrante del medesimo soggetto, appunto, il soggetto che oggi dovrebbe occuparsi più che delle ambizioni del professor Monti, delle ambizioni di un'intera generazione che è esclusa dalla prospettiva di lavoro e dalla prospettiva di futuro, più che del professor Monti, dei danni che il professor Monti ha inflitto all'Italia e nel primo consiglio dei ministri, per esempio, avremo immediatamente da affrontare il tema degli esodati che la mandano a dire su quanta sciatteria tecnica vi è stata anche nel governo dei tecnici. Quindi mi pare di capire che lei proprio Monti come ministro del suo governo non lo vorrebbe, anche perché lui ha detto che non piacerebbe fare il ministro di un governo riformista e invece non... Ma il problema è che cos'è il riformismo? Monti pensa che il riformismo sia cancellare lo statuto dei diritti dei lavoratori. Io penso che lo statuto dei diritti dei lavoratori è stato il capolavoro del riformismo italiano, quindi abbiamo visioni proprio... Allora, passiamo a sentire un po' le domande che ci arrivano qui dallo web. Elisabetta Nicolosi, lei si voleva attaccare, proprio voleva stare sulla politica stretta, se non sbaglio, no? Pronto? Non la sentiamo. C'è un problema di audio da... Ecco, ricomincia, ricomincia, ricomincia. Buongiorno intanto. Volevo rimanere appunto sul questo discorso. Potendo scegliere quale ministro appunto del governo tecnico porterebbe in un governo di centrosinistra? Sicuramente uno, il più bravo, il più competente e il più capace di sensibilità sociale, e cioè il ministro Fabrizio Barca. E lo dico perché la battaglia che lui ha fatto in Italia e in Europa per difendere il finanziamento delle aree più svantaggiate, per difendere la politica di coesione, e perché si potesse capire che non si può uscire dalla crisi se non investendo le risorse fondamentali nella apertura di cantieri che servono a infrastrutturare questo paese, no? Credo che l'atteggiamento, persino il garbo, in una stagione che è stata segnata dalla supponenza, la modestia di Fabrizio Barca è stata una lezione di stile. Anche per questo vorrei che venisse con noi nell'esperienza del prossimo governo. Che ministero gli affiderebbe? Credo che questo è... Non sono abituato a ragionare di questo. In genere non lo faccio. È un'eccezione che faccio per Fabrizio Barca e penso che lui è talmente bravo che potrebbe gestire qualunque di castero. Prima di passare a un altro nostro interlocatore virtuale, non so come chiamarlo. Questa, diciamo, che tutti chiamano rimonta di Berlusconi, a la preoccupa, b a cosa la attribuisce? Come mai? Sembrava un partito morto, un leader morto politicamente parlando, e invece sta lì e combatte, recupera, guadagna con sé. Ma io forse proprio con lei, Barenghi, ho, come posso dire, espresso un parere che si è rivelato un po' profetico. Quando si insediò il governo Monti, io in un'intervista dissi, attenti, ora Berlusconi si inabissa e avanza un nuovo ceto di governo che rischia di essere il catalizzatore dei risentimenti e del rancore di un paese ferito in crisi. E poi dissi, attenti, questa sarà una stagione penitenziale, ma dopo la quaresima liberista potrebbe esserci la Pasqua di resurrezione dei populisti. E non dimenticate che il populista number one si chiama Silvio Berlusconi, l'uomo che è in grado di parlare come una pancera che aderisce elasticamente all'italietta del bassoventre. Questo ha a che fare col fatto che Berlusconi non è un fenomeno di superficie e non è un problema soltanto, diciamo, di ingorgo di vicende processuali. È un problema che ha a che fare con la trasformazione morfologica della società italiana. Il Berlusconismo è stato uno tsunami che ha cambiato la nostra società. Oggi possiamo dire, mutuando da uno storico che parlava di altre vicende, che il Berlusconismo è l'autobiografia di una nazione. Non si può immaginare che basti convocare l'esorcista per farlo sparire. Quando è uscito da Palazzo Chigi non è uscito dalla pancia del paese, è uscito da un luogo, non è uscito dai centomila luoghi in cui è entrato con il suo vocabolario, con le sue TV, con il suo modo di pensare. Per questo credo che il centro-sinistra abbia commesso un errore nella parte iniziale di questa campagna elettorale, ritenendo di poter guadagnare la vittoria per forza d'inerzia. Si trattava di scivolare verso la vittoria, non mettere nel conto il ritorno, a volte ritornano come nei film dell'horror, il ritorno tra i populisti, del populista Berlusconi è stato un errore. Cambiamo argomento, intanto qui ne avremo per altre quasi tre settimane. L'altro giorno lei, vendola, e così passiamo anche la parola a un nostro interlocutore che su questa questione voleva interrogarla, però introduco con questa domanda. L'altro giorno lei ha detto che lei ha paura di girare per Roma la sera perché è una città violenta e una città omofoba. Io volevo sapere se c'è un episodio in particolare che l'ha riguardata, può raccontarci o no? Oppure è solo una sensazione generale? Ho fatto un'intervista con un quotidiano, con un giornalista, raccontando quanto è anacronistico il mio paese, l'Italia, mentre Barack Obama nel discorso di insediamento per il secondo mandato parla di eguaglianza e nomina i soggetti che chiedono, che reclamano eguaglianza di diritti compresi gli omosessuali. Mentre la Francia di François Hollande vara il matrimonio gay ed era un paese che era già dotato di una legislazione di riconoscimento delle coppie civili di fatto. Mentre il conservatore Cameron si batte per il matrimonio gay, in Italia siamo a dover contare le molesti, gli insulti, le violenze. Anche gli insulti sulla rete, quando sono di tipo omofobico, hanno a che fare con una violenza, rappresentano una violenza. Beh, in una città come Roma, che ha conosciuto uno stilicidio di atti di violenza nei confronti dei gay, è difficile per me immaginare di poter fare una passeggiata in tranquillità da solo, perché sono anche prigioniero della mia immagine pubblica, perché sono un volto noto e soprattutto perché rischio di essere un target per gli omofobi che si aggirano. Allora, non è mai successo insulti, urla, qualcosa del genere o no? Guardi, mentre Alemanno si è risentito per questo insulto alla capitale, in realtà io mi ribello a chi insulta Roma. Roma viene insultata dagli omofobi, viene insultata dai raccisti, viene insultata da chi pratica la violenza. Mentre Alemanno si risentiva, davanti a una scuola importante di Roma, compariva una scritta con una firma di un gruppo fascista contro un giovane rappresentante degli studenti negli organi scolastici, perché gay, un adolescente. Noi dobbiamo sapere che la paura della discriminazione è una delle principali cause dei suicidi tra gli adolescenti quando scoprono la propria diversità. Allora, io sto dicendo che non è possibile essere prigionieri di questo anacronismo e abbiamo avuto un Parlamento che non è che non ha voluto votare il matrimonio gay, non è che non ha voluto votare il riconoscimento delle unioni civili, non ha votato una legge modesta contro l'omofobia. Questo è il segno di una classe dirigente ipocrita e di una politica pucillanime. Vabbè, c'era Simone Chiarelli che voleva toccare due o tre punti con domande rapide a Vendola. Simone? Sì, buongiorno. Io volevo parlare non tanto di politica, ma di politiche. In particolare le elezioni sono il momento in cui si vedono le differenze più che le analogie fra i partiti e volevo chiederle. Sul tema lavoro e politiche di sviluppo, le differenze diversali, welfare e più deboli, le differenze con Ingroia, ambiente, le differenze con Grillo e poi, sul tema delle politiche locali, Berlusconi, Monti, Maroni, cosa la differenziano? La prima, non abbiamo capito la prima. No, ho capito io. Ha capito ancora una roba. Guardi, ci vuole una giornata intera per rispondere a questa domanda a proposito delle comparazioni e delle differenze. Io ho una discreta sintonia con Pierluigi Bersani, non una coincidenza, ma una sintonia, nel senso che il tema del lavoro non soltanto è quello di attivare politiche industriali di cui l'Italia ha una necessità assoluta. La politica pratica l'astinenza dalle competenze industriali, pensando che siano una competenza del mercato. Io penso che invece c'è bisogno oggi, soprattutto di fronte ai problemi oggettivi e strutturali del nostro apparato economico, e cioè alla sua debolezza perché è segnato soprattutto da piccole e piccolissime aziende e alla sua fragilità perché non si sono fatte le politiche di innovazione, allora noi abbiamo bisogno, ecco, io me la sono cavata così nella mia regione, politica industriale è stato non regalare i soldi agli imprenditori, che normalmente compravano il biglietto per delocalizzare, ma finanziare la nascita di distretti produttivi di filiera e finanziare la nascita di distretti tecnologici che diventavano l'infrastrutturazione tecnologica degli apparati produttivi. Sembrano formule vaghe, tradotte in italiano, Boeing si attraversa gli oceani e viene a costruire un pezzo del suo aereo del futuro, del Dreamliner del 787 in Puglia e perché noi in questi anni abbiamo lavorato sulla fibra di carbonio, su un nuovo materiale con cui si possono costruire aereoplani che pesano la metà rispetto agli aereoplani costruiti con l'alluminio. Se una grande multinazionale inglese scende a Bari e pianta, come vedremo nei prossimi giorni, laddove c'era una crisi aziendale importante, officine meccaniche, pianta la seconda industria automobilistica d'Italia e a Bari costruiremo i taxi per Londra, 45 mila taxi per Londra. Questo accade anche perché in questi anni noi non soltanto abbiamo reso la nostra macchina burocratica efficiente, i nostri incentivi, come ha segnalato il Sole 24 ore avantieri, i più completi e i più sofisticati, ma anche perché abbiamo investito in pezzi di automobile ecologica, l'iniettore per l'automobile ecologica, il cambio per l'automobile ecologica, quindi siamo un territorio in cui si è fatta politica industriale. Allora, lavoro significa politica industriale, rilancio dell'agroalimentare, economia della creatività, della connessione. Io sono orgoglioso di essere il Presidente di una Regione che ha la copertura della banda larga per il 99% dei cittadini e ho già investito una cifra rilevante per la banda ultralarga. Considero la banda larga più importante che non bucare una montagna per la velocità dei traffici economici nell'epoca nostra. Sul welfare, il punto fondamentale è che le destre, quella populista e quella per bene, quella un po' sudamericana e quella europea, quando propongono l'abbattimento delle tasse, alludono sempre al taglio della spesa pubblica. Si tratta in realtà della volontà di falcidiare il welfare, lo stato sociale, dello spingere per esempio la sanità in un processo di privatizzazione, dello spingere i cittadini a immaginare che non c'è più la Costituzione che garantisce istruzione, salute e previdenza, ma ci sarà o il Bancomat o le polizie di assicurazione a garantire ciò che un tempo era diritto sociale. Io mi batto invece perché il welfare venga riqualificato, ma rilanciato. Il welfare è un fattore di produzione di ricchezza. E poi ci vogliono molte ore per completare… Allora, siccome abbiamo anche sfidato… Scusami, e sull'ambiente io penso che bisogna essere in grado oggi di vincere la sfida del trovare il punto di equilibrio tra ambiente e industria. Una cultura ambientalista non può significare regredire o fuoriuscire dalla nostra storia industriale. Io penso che bisogna riqualificare radicalmente, anche in senso ambientale, gli apparati produttivi, ma metterci di fronte a una specie di semplificazione referendaria, o l'industria o l'ambiente, io lo considero profondamente sbagliato. A proposito di questo c'era Daniele Banfi, collegato con noi, che voleva affrontare il tema dell'ILVA, se non sbaglio, giusto? Esattamente. Mi sentite? Perfetto. Allora, io vorrei chiederle una cosa sia come Presidente della Regione Puglia, che come è possibile immagino futuro parlamentare, ed è il caso dell'ILVA. Vorrei capire bene qual è la sua posizione sulla questione salute dei cittadini tarantini e se sarà appunto un parlamentare, cosa concretamente proporrà? Perché il problema sui giornali è sparito per ovvi motivi, però la gente in quei luoghi è malata. in quei luoghi in tutta Italia. Vorrei ricordare che la diffusione di diossine in pianura padana ha punte di concentrazione che sono cinque volte più alte quelle del quartiere Tamburi di Taranto, che è il quartiere a ridosso dei parchi minerari. Vorrei ricordare che nell'autorizzazione integrata ambientale che riguarda i siti produttivi di Priolo è consentita una emissione di diossine di 100 nanogrammi per metro cubo, mentre nell'autorizzazione integrata ambientale che riguarda l'ILVA di Taranto si parla di 0,4 nanogrammi per metro cubo. Noi siamo l'unico posto d'Italia in cui si è voluta aprire questa partita, perché il Parlamento non se ne è accorto, nessun governo si è accorto e che eravamo alla maturazione di una questione gigantesca. L'Italia è un paese omertoso, in cui ancora oggi non si può parlare di amianto, per esempio, e non si può parlare di asbestosi, di mesotelioma pleurico, non si può parlare delle tre categorie di ammazzati dall'amianto. Gli operai, le mogli degli operai che lavavano le tute impregnate di fibre di amianto e i cittadini residenti nei quartieri limitrofi alle fabbriche di amianto. Noi abbiamo proceduto così, nel 2005 mi sono insediato e per la prima volta nel discorso ufficiale fatto alla Fiera del Levante davanti al Presidente del Consiglio ho parlato in apertura dell'ILVA e del cancro e di come una classe dirigente doveva misurarsi su questo terreno. Ho raddoppiato gli organici dell'ARPA Puglia, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Ho chiamato un grande scienziato a dirigere quell'agenzia che fino a quel momento era piuttosto una scatola vuota. Ho dotato l'ARPA delle strumentazioni per fare i monitoraggi. Nella primavera del 2008 l'ARPA ci ha portato i dati sui monitoraggi ambientali, sullo spandimento delle diossine dei furani. Autunno del 2008 noi abbiamo fatto la prima legge che esiste in Italia e forse in Europa per l'abbattimento dei limiti emissivi delle diossine, 0,4 nanogrammi per metro cubo, con un braccio di ferro tra me e il resto del mondo. All'epoca non ci furono inviati dei grandi giornali, non ci furono i riflettori accesi. Fui un po' solo contro il Ministro Prestigiacomo che mi scrisse una lettera aperta su Repubblica. Parlando di diossina mi diceva che rischiavo di far licenziare migliaia di lavoratori di far chiudere la fabbrica. Io con la freddezza delle forze sociali andai avanti e facemmo la legge anti diossina. Nel 2011 abbiamo fatto la legge per l'abbattimento del benzo apirene e successivamente abbiamo fatto l'unica legge, vorrei sottolineare che questo è veramente un salto epocale, in cui si introduce il concetto di valutazione di danno sanitario, che vuol dire la seguente cosa, che in qualunque situazione in cui si verifichi che una forma di inquinamento sia pure dentro i limiti di legge, produce danni alla salute, reca un pregiudizio, porta il cancro, bisogna fermare la macchina e bisogna introdurre ulteriori migliori tecnologie per abbattere del tutto il rischio del danno sanitario. Pensare che l'ILVA, la più grande fabbrica d'acciaio d'Europa, fosse competenza della regione Puglia, che fra l'altro non ha competenza ambientale, perché è competenza esclusiva dello Stato e soltanto, non lo dico al nostro amico che ringrazio per avermi posto la questione, appartiene soltanto alla piccineria del dibattito pubblico nel nostro Paese, un Parlamento che è stato silente su questo, come per esempio sull'inquinamento nelle grandi aree industriali di tutta Italia. Quando apriamo questa partita, e questa partita per aprirla ti obbliga a parlare di politica industriale, ma di questo noi facciamo astinenza. Torniamo alla politica generale, come se questa non fosse politica generale, però insomma qui c'è un nostro lettore, si chiama Massimo Morello, che dice che non vorrei che lei facesse fare al governo del PD, nel senso del centro-sinistra, sempre ammesso che vinca le elezioni, la stessa fine che fece fare Bertinotti al governo Prodi, consegnando di fatto il governo del Paese a Berlusconi. Non vorrei che questo nostro amico dimenticasse la fine che ha fatto l'ultimo governo Prodi a causa di Clemente Mastella, a causa di un centrista, vorrei che ricordassimo tutte le vicende. Il centro-sinistra secondo me ha barcollato ed è caduto non soltanto per le contraddizioni interne, a un raggruppamento che era un esercito di tanti protagonisti. Io sono l'esempio di una stabilità di governo, otto anni in Puglia, che non ha comparazioni con altre esperienze di governo. Io mi candido a essere la garanzia della stabilità del governo. Ho firmato un documento nel quale c'è scritto che sui passaggi parlamentari fondamentali i gruppi del PD e di Sinistra Ecologia e Libertà si riuniscono, discutono insieme, votano quale debba essere la scelta da assumere e a quel punto ci si comporta con questa logica unitaria di responsabilità. Quindi se il programma è quello che ho sottoscritto con Bersani, se il Premier è Bersani e se la coalizione è il centro-sinistra, io sarò la garanzia della governabilità e della stabilità. Spero che molti voteranno Sinistra Ecologia e Libertà perché questo voto è la garanzia che esista il centro-sinistra e che il centro-sinistra non acceda a percorsi di autolesionismo. Ultima domanda, Flash, tanto mi risponderà che non me lo dice. Sarà Ministro? Mi piacerebbe fare il ministro, mettiamola così. A me piacerebbe molto tornare a essere in una squadra che fa il libero, l'attaccante. Io, Barenghi, da otto anni e mezzo faccio l'allenatore, il capitano, l'arbitro. Ho concentrato sia governando una regione grande di 4 milioni di persone, sia come leader di partito. Mi sono sentito sulle spalle tante di quelle responsabilità e ho perso, come posso dire, quella allegra spavalderia che c'è in chi gioca all'attacco da libero. Per cui, se io potessi scegliere secondo i miei desideri, farei il semplice parlamentare. La discussione sarà una discussione collettiva. Se vinceremo le elezioni, se toccherà a noi, decideremo insieme come si può servire al meglio la propria comunità. Grazie a Nichi Vendola, grazie ai nostri ascoltatori, telespettatori e interlocutori virtuali. Arrivederci alla prossima.